Posso parlare con Gennaro Rea? Sì, sono io, mi dica. Buongiorno, voglio capire se lei crede ancora a suo genere o ha qualche dubbio adesso. No, 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 al momento siamo in stand-by. Cosa vuol dire? Che cosa le ha fatto cambiare idea? Stiamo aspettando, no, 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 tutto niente, quello che sapete voi, quindi so pure io, capito? Quindi stiamo aspettando gli eventi, tutto qua. Ma adesso, secondo lei, tutte le contraddizioni che ci sono state, lei vuole sapere la verità da Salvatore? Non ho capito. Lei vuole sapere adesso la verità da Salvatore? Ma la verità è quello che già ha detto, già si sa, per cui l'altra verità dell'omicidio io vorrei sapere dagli altri, ma non da lui, non lo so. Se sa qualche cosa, mi puoi chiamare e me lo dice. Ma voi sapevate del tradimento della sua testa? No, assolutamente no, assolutamente no, altrimenti mia figlia non stava là. E secondo lei neanche sua figlia sapeva? No, non sapeva mia figlia, assolutamente no. Lo scuro in modo categorico, l'ho già detto in precedenza e te lo ridico anche adesso. Senta, al funerale c'è stato gelo tra le due famiglie, tra voi? No, 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 assolutamente no, erano le circostanze che facessero presumere una cosa del gelo, ma non c'era il gelo. A mezzogiorno siamo rientrati, sono venuti qui da me a prendere un caffè per rifocillarci tra virgolette un po' un caffè, quindi se questo lo chiama gelo non lo so. Senta, una settimana fa però sua moglie l'aveva difeso proprio a strada tratta dicendo che secondo lei non c'entrava nulla nel... Ma assolutamente anche adesso lo penso che non c'entra nulla, il tradimento è una cosa che me lo mettiamo da parte momentaneamente, come ci ho detto. E poi si deve vedere gli altri eventi, ma ciò non toglie che lui sia stato colpevole, è colpevole diciamo, non lo pensiamo assolutamente no. Però lei vuole sapere, da Salvatore, la spiegazione delle contraddizioni che sa? Ma se certamente, se sa qualche cosa deve trovare gli inquirenti, non a me, aspetta pure. Ovviamente. Ho capito? Tutto qua.